sta riprendendo sta merda qua si dai counter che va dove si? dove si? lo rompezzo giro qui che sorpassa si? si c'è questo Mirko attentato e ritornato aspetta mia Fabio, non aspetta Fabio non aspetta Fabio da te Carbo non aspetta non aspetta si è che sto guardando tanto mi sono male tanto non è che sto in tempo ma andate a passare a sofferto ma cos'è già finito eh dai carbo che partiva con una convinzione diversa la mascherina la ma cos'è la ma cos'è? Vai Fabio, via ora Dai Mirko, dai Dai Mirko, via